Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Unxxi, che vanta un incremento del 3,89%. I più forti ribassi si verificano su Pirelli, che continua la seduta con meno 3,77% Sulla piattaforma americana del CMI, forte rialzo per il petrolio, che mette a segno un guadagno del 2,42% Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciato il PMI composito dell'Unione Europea, pari a 50 punti È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio degli occupati ADP, del PMI composite e delle scorte di petrolio Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 11.509,25 punti Grazie a tutti